ciao ragazzi oggi vi presento lui alla fine mi sono deciso a comprarlo lui si chiama tilt e a mio avviso il densimetro 2.0 andiamo a scoprire assieme come funziona ho acquistato il densimetro su un noto stone online italiano per un brewing e per birrifici andiamo ad aprire la confezione all'interno è presente questo bussolotto che attenzione non è il tilt perché in realtà il densimetro è all'interno di questa capsula in plastica lo andiamo a sfilare ed ecco qui il prodotto io ho scelto la colorazione arancione è possibile andare a scegliere tra varie tipologie di colori è consigliabile qualora voleste acquistare più di un tilt scegliere due colori differenti in maniera tale che poi dall'applicazione si possa andare a differenziare un batch di produzione piuttosto che un altro in base al colore tutta la sensoristica è inserita all'interno di questa capsula in materiale plastico e serrata con questo tappo a vite all'interno del quale è presente anche una guarnizione di tenuta quindi questo promette di poter avere una garanzia di un sistema completamente sigillato pulito e facile da sanitizzare comunque sul prossimo batch lo testerò e andrò a verificare l'impermeabilità del prodotto aggiungo solo che il tilt è leggero compatto e promette bene all'interno della confezione c'è solo oltre al tilt un piccolo manualetto con delle istruzioni rapide però già visto che sul sito internet sono presenti moltissime informazioni utili accendere tilt è molto semplice basta prenderlo e immergerlo nel mosto in automatico il sensore interno leggerà le oscillazioni dovute al galleggiamento e lo strumento si accenderà da solo e il led lampeggerà per indicare l'avvenuta accensione molto importante se il led lampeggia verde significa che il tilt è acceso e la carica della batteria permette di effettuare una fermentazione qualora il led lampeggiasse di rosso è necessario sostituire la batteria per spegnere sarà sufficiente capovolgere il densimetro posizionandolo con il tappo rivolto verso l'alto per segnalare l'avvenuto spegnimento tilt lampeggerà con il led di colore blu prima di iniziare ad impostare il densimetro dobbiamo scaricare l'applicazione sull'apposito store online l'app è disponibile sia per ios che per android per poter verificare la corretta taratura del dispositivo prepariamo un recipiente con all'interno dell'acqua che chiaramente avrà una densità pari a mille ed immergiamo all'interno tilt andiamo poi ad aprire l'applicazione e dopo pochi secondi il densimetro verrà rilevato tramite il bluetooth dello smartphone per avere il dato preciso della densità è necessario attendere che lo strumento all'interno del liquido smetta di fluttuare perché le oscillazioni possono restituire un valore non preciso come si può vedere una volta che il densimetro si è stabilizzato il valore restituito risulta corretto senza necessità di essere calibrato manualmente è comunque possibile una calibrazione in più punti tramite le impostazioni dell'app per avere un monitoraggio ancora più affidabile a questo punto non rimane che connettere l'applicazione al software brewfather che utilizzo per creare le ricette e gestire le fermentazioni all'interno dell'applicazione clicchiamo sulla rotellina in alto a sinistra per aprire il menu premiamo sul tilt interessato e appariranno le impostazioni del densimetro scorriamo fino a change default cloud url dove nel campo sottostante dovremo applicare la stringa che andremo a recuperare sul software nel mio caso brewfather ora andiamo ad aprire l'applicazione brewfather nel menu andiamo a selezionare settings e scorrendo in basso nella sezione dedicata ai dispositivi dovremo trovare il pulsante tilt hydrometer non appena attivato saranno visibili alcune informazioni e le istruzioni di connessione che consiglio di leggere copiamo la stringa url e ritorniamo nell'applicazione tilt dove andremo a copiarla all'interno del campo che abbiamo precedentemente visto non rimane altro che premere sul pulsante save e la notifiche ci avviseranno dell'avvenuto abbinamento tra i due servizi per verificare che tutto sia correttamente funzionante torniamo sull'applicazione brewfather scegliamo una ricetta qualsiasi e creiamo un brecci di produzione impostiamo lo stato di fermentazione e nel primo campo selezioniamo il pulsante devices in automatico brewfather rileva la possibilità di abbinare il tilt e premendo sul pulsante attach lo strumento verrà abbinato alla fermentazione di questa specifica fermentazione ora torniamo indietro e come riportato sull'applicazione dovremo attendere dai 15 ai 60 minuti per permettere ai dispositivi di comunicare e di trasnettere i dati dopo un po di minuti sono tornato per controllare se i dati fossero sincronizzati e brewfather ha già caricato i primi valori creando il classico grafico per monitorizzare l'andamento della fermentazione se come nel mio caso non si volesse mantenere un dispositivo sempre connesso al densimetro è possibile aprire l'applicazione tilt entrare nelle impostazioni e premere il pulsante start new log chiaramente nel raggio d'azione del bluetooth per permettere al tilt e dall'app di comunicare questo permette in manuale di andare a ricevere i dati dal densimetro e di inviarli sull'applicazione brewfather dimenticavo nelle varie impostazioni è possibile dare un nome alla birra che stiamo fermentando in questo caso l'ho nominata test ritorniamo sull'app brewfather per controllare che i dati inviati in manuale siano stati caricati e vediamo che il grafico si aggiorna generando una linea che collega i valori sia di densità che la temperatura chiaramente più valori verranno caricati e più il grafico risulterà preciso ed aggiornato come detto per spegnere il dispositivo è sufficiente estrarlo dal liquido e posizionarlo in piedi con il tappo rivolto verso l'alto tra le varie una delle possibilità più interessanti di questo dispositivo è di mantenerlo sempre connesso ad un device tramite bluetooth e chiaramente collegandolo alla rete wifi di casa questo per avere monitorizzata in maniera molto precisa l'andamento della densità e della temperatura all'interno del fermentatore in alternativa è possibile connettere il dispositivo al tilt per rilevare la densità ogni qualvolta lo desiderassimo nel caso comunque volessimo mantenere un dispositivo sempre collegato è interessante la funzionalità di poter impostare il tempo di sincronizzazione che può essere da un minimo di 15 minuti a salire per poter gestire al meglio la batteria in conclusione lo ritengo un ottimo strumento per non dover continuamente prelevare campioni di mosto dal fermentatore quindi con un notevole risparmio di tempo e di mosto ho trovato il sistema abbastanza preciso rispetto alla realtà si discosta di poco al massimo uno o due punti c'è da dire che soffre e non poco la schiuma che si forma in fermentazione che potrebbe leggermente falsare il dato di lettura ma a mio avviso è una deviazione talmente ininfluente che può passare meno preciso invece il sensore della temperatura che soprattutto in fase di fermentazione tumultuosa ho notato avere notevoli scostamenti anche dell'ordine del grado dal mio punto di vista l'utilizzo corretto del sistema è soprattutto per monitorare la FG raggiunta e costante nel tempo perché permette di verificare dal grafico quando la densità si blocca e rimane costante la lettura della FG comunque dal mio punto di vista spetta sempre al più affidabile densimetro manuale nel caso di carbonazione in pressione lo trovo molto utile anche per avere un'idea abbastanza precisa di quando andare a collegare la spooling valve per mettere in pressione il fermentatore molto utile anche qualora si andassero a fermentare delle birre a bassa fermentazione per avere un'idea abbastanza precisa di quando andare a effettuare la pausa per riassorbire di acetile ricapitolando PRO abbastanza preciso gestibile da app facile da settare abbinabile a software terzi come brewfader per avere tutto monitorizzato in fase di fermentazione l'altra cosa molto interessante è che questo sistema funziona anche all'interno di fermentatori in acciaio inox perché utilizza la tecnologia bluetooth mentre invece altri sistemi che ho utilizzato in passato sfruttando il wifi di casa non riescono a comunicare per via dell'acciaio inox che blocca il passaggio del segnale ci sono dei contro in prima battuta il prezzo non particolarmente abbordabile perché si parla di un costo che ad oggi si aggira attorno ai 165 euro non è dotato di batteria integrata ricaricabile ma quando si scarica dobbiamo andare a sostituire la batteria altra cosa che mi è piaciuta meno è la gestione della carica della batteria che si va a leggere con il led mi piace poco perché è poco visibile spero che questo video sia stato utile per qualsiasi di domanda informazione o per dire la vostra lasciate un commento qui sotto vi ricordo di seguirmi sul mio canale instagram link in descrizione al prossimo video